In principio mi pareva inaccettabile che nella vita rimanesse una zona d'ombra come quella creata dal fantasma. Mi pareva indispensabile sapere chi era, perché lo faceva e poi ho capito che nella vita c'è anche posto per un po' di mistero, no? Forse non è così importante capire tutto. Non può darsi che tu abbia ragione. Sai, ci sono misteri più grandi persino dentro di noi. Ma tu lo sapevi che Mozart a 15 anni è stato proprio qui, a Torino? Presto, trapassa la variopinta scena della vita e cala il sipario. Grazie a tutti.